Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vedremo insieme come installare Docker e Docker Compose su Proxmox per containerizzare i nostri servizi preferiti. Prima di procedere, come al solito, io vi invito ad iscrivervi sia al mio canale YouTube che al mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione, per restare sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video, corsi o aggiornamenti in generale. Per prima cosa dobbiamo navigare sulla nostra istanza di Proxmox e autenticarci. A questo punto nessuno ci vieta di spostarci nella sezione Shell della nostra macchina per poter procedere con l'installazione di Docker e Docker Compose. Di fatto ci troviamo su Debian, pertanto potremmo pensare di navigare sulla documentazione ufficiale di Docker e seguire questa guida qui per installare appunto Docker e Docker Compose. Tuttavia personalmente preferisco tenere in ordine la mia macchina host. Preferisco quindi evitare di installare software aggiuntivi all'interno dell'istanza di Proxmox. Quello che faremo sarà quindi creare un container LXC ad hoc che dedicheremo solo ed esclusivamente a Docker. All'interno di questo container potremo pertanto creare ulteriori container e perché no tirar su delle configurazioni personalizzate sfruttando Docker Compose. Nel gergo tecnico questa configurazione prende il nome di container in container oppure configurazione docker in docker. Ma bando alle ciance procediamo quindi con la creazione del nostro container LXC che ci consentirà di lanciare container docker. Spostiamoci sul nostro storage preferito e selezioniamo CT templates. Andiamo a scaricare il template che andremo ad utilizzare per il nostro container LXC. Clicchiamo su templates e successivamente cerchiamo Alpine. Andiamo a scaricare l'ultima versione di Alpine, nel mio caso la 3.19 default e clicchiamo su download. Al termine del download chiudiamo la finestra e andiamo a costruire il nostro container. Clicchiamo su create CT. Inseriamo un hostname. Io ho già una macchina che si chiama docker quindi per differenziarla la chiamo docker server ad esempio. Rimuoviamo la spunta a unprivileged container. Dopodiché impostiamo una password. Confermiamo la password. Dopodiché clicchiamo su next. Adesso andiamo a scegliere il template per il nostro container LXC. Andiamo a selezionare l'ultima versione di Alpine che abbiamo appena scaricato. Dopodiché clicchiamo su next. All'interno di questa schermata andiamo a scegliere quanto spazio allocare al nostro container LXC. Io preferisco dedicare almeno 50 GB byte a questo container in quanto si presuppone che andremo a containerizzare diversi servizi e gli stessi occuperanno dello spazio su disco. Clicchiamo quindi su next. Qui dobbiamo allocare la giusta quantità di core in funzione della potenza di calcolo che vogliamo dedicare. Io qui lascio uno ma voi siete liberissimi di modificare questa informazione. Clicchiamo su next. Stesso discorso si applica per la memoria. Quindi in questo caso io vado a modificare la memoria allocata di default da 512 maybe byte ad almeno 2048. Facciamo lo stesso anche per lo swap perché potrebbe tornare comodo. Clicchiamo su next. Andiamo avanti. Andiamo a configurare la sezione network. Io qui vi consiglio di impostare un indirizzo IP statico così da poter raggiungere più facilmente i nostri servizi all'interno della rete. Configuriamo l'IPv4. Questo va fatto in funzione della vostra sottorete. Io imposto un indirizzo IP 192.168.1.50.24 e vado ad assegnare anche il mio gateway di default. 192.168.1.1. Per il resto lascio tutto a default. Clicchiamo su next. Eventualmente personalizziamo i DNS. Non è importante. Almeno nel mio caso specifico non mi serve farlo. Clicchiamo nuovamente su next e adesso nel recap nella sezione di confirm di Proxmox assicuriamoci che start after created non sia spuntato. Questo perché dobbiamo andare ad eseguire alcune modifiche alla configurazione del nostro container LXC. Dobbiamo andare ad applicare una configurazione particolare per quanto riguarda i privilegi. Dopodiché clicchiamo su finish. Adesso che il nostro container è stato creato segniamoci l'identificativo. In questo caso 102. Spostiamoci sulla macchina host. Dopodiché selezioniamo shell. All'interno della nostra shell digitiamo cat parentesi angolari slash etc slash pv slash lxc slash qui inseriamo il numero del nostro container 102.conf parentesi angolari aperte. Eof andiamo a capo con shift invio. Qui digitiamo lxc.apparmor.profile due punti unconfined. Nuovamente a capo con shift invio. Lxc.cap.drop due punti ancora a capo e poi eof. Una volta data questa istruzione digitiamo invio. Andiamo a verificare che questa configurazione sia stata applicata alla nostra configurazione. Digitiamo cat slash tc slash pv slash lxc slash 102.conf e qui in basso sotto swap possiamo identificare lxc.apparmor.profile.confined ed lxc.cap.drop due punti. Che cosa abbiamo fatto? Con questa istruzione abbiamo dato ulteriori privilegi al nostro container lxc. Questo ci consentirà fondamentalmente di eseguire docker nel modo corretto. A questo punto la domanda sorge spontanea. Qual è il senso di costruire un container di questo tipo se poi gli andiamo ad assegnare dei privilegi così elevati? Beh io lo faccio essenzialmente per una questione di ordine. Ritengo che sia molto più pratico costruire un container lxc con al suo interno docker o docker compose. Un domani se vorrò far sparire la mia configurazione di docker e docker compose mi basterà cancellare il container senza andare quindi a disinstallare o a ripulire file all'interno della macchina host di proxmox. Bene una volta fatto questo siamo pronti per lanciare il nostro container lxc e procedere con l'installazione di docker dentro l'istanza di alpine. Andiamo a selezionare quindi docker server dalla sinistra, spostiamoci su console, dopodiché clicchiamo su start now. A container avviato eseguiamo la login, l'account è root, la password è quella che abbiamo scelto poco fa. Dopodiché aggiorniamo le dipendenze digitando apk update e commerciale appk upgrade. Digitiamo invio. Perfetto. Andiamo ad installare docker e docker compose digitando apk add docker spazio docker trattino compose. Digitiamo invio. Ripuliamo lo schermo. Avviamo il servizio di docker digitando rc service docker start. Ignoriamo per il momento gli errori. registriamo il servizio digitando rc trattino update add docker e andiamo a costruire una cartella con mkdir meno p sotto etc che chiameremo docker e all'interno di questa cartella andremo ad impostare una configurazione base per il demone docker. Ripuliamo il terminale e qui andiamo ad incollare una configurazione base per il nostro demone. Ve la lascio nei commenti del video. Andiamo quindi ad incollare questa istruzione. Dopodiché digitiamo invio. Ripuliamo lo schermo. Digitiamo cat etc docker daemon.json e questa è di fatto la configurazione che abbiamo appena incollato. Ripuliamo quindi la shell. Riavviamo il servizio per applicare la configurazione rc service docker restart. E se andiamo a digitare docker ps-a possiamo consultare l'elenco dei container. Al momento è vuoto perché appunto non abbiamo lanciato alcun container. Adesso solo per verificare se effettivamente la nostra configurazione funziona andrò a lanciare questo container sul nostro container lxc all'interno del quale abbiamo installato docker. Per farciò vado quindi a copiare questa istruzione docker run e la vado ad incollare qui dentro. Digito invio. Adesso l'immagine verrà pullata. Poi verrà creato il container. Digitiamo docker ps-a e adesso effettivamente le low world sta funzionando. Navighiamo quindi su 192.168.1.50 2.80. Ed ecco qui le low world del container che abbiamo appena lanciato. Adesso ovviamente tutto funziona quindi posso tranquillamente stoppare questo container docker stop a 42. E di fatto tornando su questa pagina non viene caricato assolutamente nulla. Anzi otterremo un errore. Cosa possiamo fare quindi con questa configurazione? Beh possiamo lanciare direttamente dei container sfruttando quindi l'istruzione docker run. Oppure possiamo anche preparare delle configurazioni ad hoc con docker compose per tirar su per esempio tutta una serie di servizi più complessi. Io adesso vi faccio vedere il mio container media server che funziona verosimilmente nello stesso modo. Qui ho un'istanza di docker installata e ci sono tutta una serie di container che stanno girando quindi sonar flare solver jacket e plex. Fondamentalmente questi servizi si occupano quindi di aggregare i contenuti multimediali come film e serie tv per poi proiettarli all'interno dell'istanza plex e plex si occupa quindi poi di aiutarmi a riprodurre i contenuti multimediali sulla mia smart tv oppure su un tablet oppure sul mio laptop. Questi container sono stati costruiti a partire da diverse configurazioni docker compose. Ad esempio se entro dentro plex qui ho un file docker compose strutturato in questo modo c'è un unico servizio plex che usa questa immagine e poi c'è tutta una configurazione sui vari volumi che ho montato per esempio su questo specifico container lxc. Possiamo fare veramente tutte le configurazioni che vogliamo il limite è la fantasia e le nostre necessità. Bene ragazzi spero che questo video vi sia stato utile fatemi sapere con un commento qui sotto che cosa ne pensate di questo approccio per poter installare docker e docker compose su proxmox. Se avete dubbi domande o perplessità non esitate a lasciare un commento qui sotto sarò felice di rispondere alle vostre domande. Se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un like se i miei video vi piacciono vi invito anche ad iscrivervi al mio canale youtube e soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sull'uscita di nuovi video. Per oggi è tutto io vi saluto alla prossima!